e diamo il benvenuto con grande piacere con il sorriso fra enrico russotto guardiano del convento di canepanova pavia in questa settimana di quaresima predicatore nel santuario di santa maria delle grazie qui a san giovanni rotondo pace bene frerico benvenuto a voi ben trovati sei stato già ieri ospite di fra pasquale cianci quindi con la parola francesco è già rotto un po il ghiaccio ma ti vedo molto a tuo agio negli studi televisivi allora senti mi ha colpito una cosa ho letto sulla tua breve bio su x x twitter sono un uomo appassionato della vita e siccome ho sperimentato la vita desidero condividerla e trasmetterla che bella questa la scelta di questa frase si è ultimamente a me capita di dire quello che siamo chiamati a fare tutti in particolar modo poi dico me che sono religiose sacerdote è quello di far circolare vita non solo dentro di sé ma intorno a sé e credo che questo sia un po l'obiettivo che mi prefigo cioè che ci sia vita che circoli perché di evita e come sto dicendo questa settimana durante la messa durante la predicazione dio ci dà vita gratuitamente a noi accoglierla e farla circolare anche con gli altri quindi senso un po quello franico allora è la prima volta che vieni qui a san giovanni rotondo sì 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 è la prima volta in assoluto bene quindi qualcosa in particolare che ti lega padre pio al nostro santo allora devo dire sinceramente io conoscevo padre pio per sentito dire e conoscevo più un lato più così devozionistico passatemi termine folcloristico quasi cioè venire padre pio la grazia i miracoli il santo dopo sant'antone dei santi più famosi per i miracoli e quindi a un attimino era un po frenato su padre pio perché non avevo mai avuto modo di leggere qualcosina o di venire qui nei suoi luoghi e quindi mi portavo quello nel frattempo io stavo organizzando ad aprile saremo qui con un pellegrinaggio francescano seguiremo un po alcune città per conoscere santi stigmatizzati e la conclusione qui proprio san giovanni rotondo qualcuno mi diceva è padre pio però insomma non erano o uno è devoto di padre pio oppure lo evita e gli ho detto no noi dobbiamo andare lì perché un santo stigmatizzato del secolo scorso è col desiderio di conoscere chi era veramente l'uomo il religioso e il sacerdote padre pio e quindi il fatto di essere invitato questa settimana qui per me è una grazia immensa e infatti oltre alla messa tutte le altre attività io mi sto dando da fare personalmente ho recuperato una biografia di padre pio me la sto leggendo di gusto e sto iniziando a scoprire chi è veramente padre pio ma sono ancora in itinere ecco poi comunque è la possibilità anche di vivere in questa questa settimana la fraternità di san giovanni rotondo quindi immagino anche di chiedere ai suoi confratelli a chi vive qui nella sua città qualcosa in più della vita e della spiritualità di questo grande santo e posso chiederti parlavi di fraternità sulla tua pagina facebook sei molto attivo anche sui social ho visto che ci sono anche delle immagini che ti ritraggono con i tuoi confratelli nel appunto tu sei guardiano nel santuario nella chiesa canepanova a pavia che significa oggi fraternità che significa essere fratelli vivere appunto con con dei frati la bellezza e il carisma di san francesco ecco io faccio riferimento beh oltre all'esperienza di francesco che appunto lui si è circondato dei fratelli non perché l'ha voluto lui ma perché il signore gli dono dei fratelli dice nel testamento nelle nostre costituzioni generali di frati minori che attualizzano la regola nel giorno di oggi si dice che l'ordine dei frati minori una fraternità quindi la caratteristica prima è la fraternità e quale è la fraternità oggi diventa anche una profezia per il mondo di oggi un mondo sempre più diviso un mondo sempre le persone sempre più isolate la fraternità diventa veramente un annuncio cioè ne parlavo giusto con un confratello anche ieri abbiamo fatto una condivisione e mi diceva che oggi bisogna oggi la gente ha bisogno di vedere una testimonianza di vita fraterna e quindi credo che sia quella al di là delle opere che facciamo che bisogna fare ecco la fraternità diventa e la qual è la sfida persone diverse di età diverse provenienze diverse sensibilità diverse che provano a stare insieme non vuol dire che tutto rose e fiori per il fatto già di riuscire a stare insieme per tante volte per tempi brevi perché io sono al terzo triennio a pavia ma dell'inizio sono l'unico rimasto tutti gli altri sono stati trasferiti e quindi questa è la sfida ogni tre anni una nuova fraternità magari si possono fare le stesse cose che non è vero perché tutta un'evoluzione sempre di bene meglio ma la sfida è rimanere fratelli scegliere di vivere da fratelli che ne ripeto non vuol dire andare sempre d'accordo il fatto che stiamo lì condividiamo una vita la gente poi percepisce questo come una volta mi ha detto un frate poi lo spirito santo mostra il lato bello delle cose e un po le nostre fragilità i nostri peccati un pochino vengono coperti ecco abbiamo anche delle foto come chiamavo appunto alla regia delle foto che abbiamo preso dalla tua pagina facebook che ti ritraggono con la tua fraternità così andiamo anche a conoscere i frati che fanno parte della fraternità del convento di Canepanova eccovi qua questa è la fraternità attuale questa è la fraternità attuale a cui si è giunto un altro confratello che si è giunta in questi mesi per causa chiusura di un convento e quindi alla mia destra c'è fra roberto cracco che è il vicario della fraternità lui viene da una lunga esperienza al convento san francesco del deserto un'isola bellissima dove si dice che è passato francesco dopo il ritorno dall'oriente e lui è il cognome cracco e tanti la battuta ci scappa sempre e lui è bravo a cucinare la domenica la domenica di solito si dedicano a cucina o lui o io io vado su piatti standard lui un po più elaborati e quindi lui dopo un'esperienza di 15 anni di due anni fa l'obbedienza l'ha portata a pavia e lui scrive icone è un bravissimo iconografo e continua adesso dopo che si è sistemato questa sua attività alla mia sinistra c'è il primo era il frate più anziano adesso poi dirò dell'altro frate che è arrivato fra pasquale ghezzi lui viene da una lunga esperienza di parroco a bustarsizio vicino varese e poi è stato anche per tanti anni commissario di terra santa e ha girato parecchio ha fatto un centinaio di pellegrinaggi in terra santa oltre che all'attivo un centinaio di presenze allo strada di san siro perché lui è un tifoso del milan e lo vive ancora ancora in pienezza è ancora accanto quello più alto frerico mascotto anche lui si chiama enrico questo fa sorridere perché ogni volta quando cercano frerico bisogna identificare quale e lui è un fratello non è sacerdote tutti gli altri sono sacerdoti lui si occupa della mensa del povero perché a pavia dal 1945 abbiamo una mensa del povero l'unica della città che serve dai 100 120 140 dipende un po dalle giornate dei periodi pasti e lui è a tempo pieno si dedica lì e vuol dire non solo i poveri ma anche i volontari il dipendente che abbiamo insomma coordina questa attività e poi la sera si diletta anche a preparare la cena lui è tifoso? è tifoso anche lui? no 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 l'unico tifoso è Fra Pasquale cerca di coinvolgerci ma senza successo e poi l'ultimo arrivato che non abbiamo ancora inserito causa chiusura del convento di Sant'Angelo a Milano è Fra Francesco di 89 anni anche lui lui è sacerdote è un giovanotto quindi abbiamo l'anziano che ci mancava e lui niente condivide con noi anche se poi va anche spesso a Milano perché ha vissuto una vita a Milano anche come cappellana cimitero monumentale e quindi ha tanti legami ancora dei servizi 89 anni e quindi lui con la macchina fa la spola a Pavia Milano incredibile ma vero e lui dice che quando sale in macchina ecco il tempo gli vola vola sì 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 e quindi lui è molto sta bene molto attivo ancora ecco che bello grazie per averci presentato la tua fraternità Allora Fra Enrico noi ora dobbiamo andare in pubblicità facciamo una breve sosta e poi ritorneremo parlando anche di questa esperienza molto bella della Mensa Francescana che è un tema che a noi piace particolarmente perché insomma sono esperienze che a noi piace raccontare anche nel corso di questo programma dunque ne approfittiamo con te che sei qui presente e poi anche per parlare un po' della tua vocazione insomma Allora restate con noi e subito dopo continuiamo la nostra chiacchierata con Fra Enrico Russotto E questa mattina direttamente dal convento di Canepanova a Pavia Fra Enrico Russotto Fra Enrico allora raccontaci come la tua strada ha incrociato quella di San Francesco d'Assisi ha incrociato, incontrato Allora vabbè per farlo a breve io sono nato e cresciuto in un paesino dell'entroterra grigentino quindi della bella Sicilia e in questo paese che si chiama Cammarata c'era un convento di frati, convento parrocchio e io sono cresciuto lì dire se già la vocazione c'era fin da piccolo io non riesco a dirlo ma sinceramente non mi interessa neanche Io sono cresciuto in mezzo ai frati quindi per me era naturale stare in mezzo ai frati perché noi frequentavamo la parrocchia sia per i sacramenti, la messa, poi c'era, io facevo il carichetto fin da piccolo c'era un frate, padre Mariano Di Mauro che lui ci sapeva fare tanto, ha dedicato tutta la sua vita ai ragazzi e quindi da lì ci può essere stato una sorta di imprinting poi crescendo come tutti i ragazzi io mi sono un po' allontanato e la cosa è avvenuta un po' negli ultimi anni del liceo quando conoscendo in modo particolare un frate con lui io ho iniziato a fare un cammino un percorso di fede perché ero uno un po' con gli studi del liceo mi facevo tante domande, un po' la filosofia mi aveva un po' riempito la testa quindi volevo mettere in discussione tutto anche se non mi sono mai allontanato in modo particolare questo frate ha saputo prendermi più in mano e mi ha fatto fare un vero cammino spirituale un vero cammino di accompagnamento spirituale che io continuo a parlare anche ai giovani, a tutti e che io continuo adesso da 30 anni cioè avere una persona di riferimento che ti accompagna nel tuo cammino per aiutarti a discernere un po' i movimenti dello spirito dentro di te nella tua anima e quindi con lui ho avuto la possibilità anche un po' di conoscere di più San Francesco ho iniziato a leggere le fonti francescane e da lì devo dire con l'entusiasmo giovanile, molto emozionale mi sono innamorato di San Francesco e io continuavo a dirmi un po' aiutato da questo frate che lo vedevo come un esempio incarnato io voglio vivere come San Francesco io voglio essere come San Francesco e mi ricordo che ho letto tantissimo di San Francesco tutte le biografie nelle fonti francescane nell'edizione edizio minor e quindi questo qui pian piano poi mi ha portato col tempo un po' a incarnare la vocazione francescana la faccio breve io subito poi da lì 21 anni ho iniziato un percorso con i frati di Sicilia però dopo due anni questo percorso si è interrotto per mia volontà io ero prossimo già alla prima professione perché poi col tempo ho capito i tempi non erano maturi io non ero sereno dentro quella scelta lì e me lo so spiegato così avevo bisogno di fare altre esperienze per maturare io a quel tempo quando poi ho chiuso quel percorso ho iniziato l'università ho fatto economia servizio civile ho iniziato a lavorare a Milano in una società di leasing di una banca e da lì ho iniziato anche a lavorare un periodo di fidanzamento di più di 4 anni insomma ho fatto tantissime cose non sto a elencare perché è stato un periodo super attivo ho fatto tantissime esperienze e quindi in un certo senso negli anni io consideravo quell'esperienza chiusa però poi in un certo senso il cammino poi si è riaperto io ho ripreso i contatti con quel frate in modo più assido non avevo mai interrotto e da lì attraverso un'esperienza un po' più ampia di condivisione con altri giovani guidati un po' da questo frate io alla bella età di 31 anni ho lasciato il lavoro mi sono ritrovato in un convento non per farmi frate ma per portare avanti questa esperienza una comunità con alcuni giovani e poi alla fine però dopo un po' di mesi mi è ritornata la domanda e se la mia vocazione non fosse veramente quella di frate e da lì è iniziato un percorso di discernimento che pian piano mi ha portato poi alle varie tappe a diventare frate e poi anche sacerdote il cammino è iniziato ancora una volta giù in Sicilia e poi però è approdato al nord per mia scelta perché avendo tutta la famiglia in provincia di Monza io ho desiderato stare lì e anche lì è stato un salto nel vuoto perché io sono andato nella provincia di Frati di Lombardia dove io non conoscevo nessun frate quindi col seno di poi dico ma come ho fatto un po' di sana e santa incoscienza però io non ho mai messo in dubbio né la mia vocazione di frate né il trasferimento al nord perché poi ho visto che c'era anche in questo tanto bene e quindi eccomi qui che bella storia Frerico hai parlato di giovani e il tuo servizio il tuo ministero si esplica anche nell'accompagnamento delle giovani coppie delle coppie di fidanzati che insomma ambiscono anche al sacramento del matrimonio allora vuoi raccontarci un po' la proposta che fate ai ragazzi che desiderano formare una famiglia allora questo percorso coppie di fidanzati quando sono arrivato io non c'era nei primi anni è nato un percorso di giovani coppie di sposi che ha seguito mio confratello desiderio di 5 coppie che c'erano lì ma i percorsi fidanzati non c'erano io non mi ero mai imbattuto in questo tipo di esperienza in pieno covid nel 2000 estate del 2000 due coppie e in due momenti diversi mi hanno contattato si dovevano preparare al matrimonio non volevano fare i soliti percorsi parrocchiali che più o meno durano dalle quattro settimane o al mese e mezzo e mi hanno detto noi vogliamo fare un cammino un po' più approfondito e vogliamo che sia tua ad accompagnarci io ho cercato un pochino di scappare dicendo ma io non ho nessuna esperienza né di famiglia né di coppie quindi direi che forse non è il caso mi dispiace preparatevi bene non ci interessa devi prepararci tu qualunque cosa tu ci preparerai non va bene e quindi io mi sono un po' inventato ecco un percorso per loro questo percorso dai pochi incontri dell'inizio poi pian piano si è un po' più strutturato fino a abbracciare un anno intero nell'anno successivo e fare 16-18 incontri prima la sera un po' poi con il seretito del covid a distanza e adesso da un paio d'anni si è strutturato in un percorso all'interno dell'anno in otto domeniche giornate intera e quindi stiamo vedendo anche un po' di immagini di coppie che hai sposato loro come si chiamano? si sono sposati Giuseppe Rebecca loro si sono sposati ad ottobre dell'anno scorso sono una delle ultime coppie e quindi questo percorso adesso chi lo sceglie perché vuole fare un percorso un po' più approfondito cioè perché vuole fare un percorso un po' più di accompagnamento e oltre a quel percorso lì delle otto domeniche dove ci sono vari laboratori anche c'è sempre la presenza di uno o due coppie di sposi perché io sono lì ma ci sono delle coppie che poi tengono un incontro e poi oltre a me c'è una coppia di sposi con più di 30 anni di matrimonio che fin da subito hanno desiderato affiancarsi e io gli avevo chiesto un incontro loro erano esperti del dialogo e del conflitto loro mi hanno detto ma noi lo vogliamo seguire e loro il primo anno l'hanno seguito come se fossero due fidanzati e alla fine di quell'anno è stato bellissimo non avevamo calcolato sta cosa loro alla fine del percorso fidanzati hanno festeggiato 30 anni di matrimonio e da lì non hanno più abbandonato continuano a seguire e poi abbiamo coinvolto altre coppie di sposi con più anni di matrimonio o quelli che pian piano uscivano dal percorso di fidanzati e si sposavano hanno prestato il loro servizio per queste coppie e viene fuori un percorso veramente bello non solo le otto domeniche ma poi chi vuole io personalmente mi rendo disponibile ad accompagnarli ciascuna coppia a sé in un percorso di preparazione prossima al matrimonio attraverso il rito e le letture e questo dura anche questo altri otto o dieci incontri molto molto importante questo accompagnamento perché è un periodo durante il quale magari si pensa a tantissime altre cose legate ai preparativi invece in quel momento è importante sei anche assistente locale della Gifra della gioventù francescana di Pavia ti vediamo con i giovani questi sono i giovani della gioventù francescana gli ultimi che hanno fatto questa promessa io quando sono arrivato a Pavia a settembre 2016 mi è stato chiesto fin da subito di accompagnare questi giovani sia a livello locale e poi per quattro anni anche a livello regionale che vuol dire Lombardia e adesso Lombardia-Piemonte e devo dire che è stata un'esperienza in crescendo molto bella che mi ha dato la possibilità di fare un bellissimo cammino insieme a loro dall'inizio dalla fatica un po' non la nascondo all'inizio che dicevo ma io con i giovani non è che ci so fare molto di qua e di là tra virgolette costretto a starci alla fine loro come io le ho presi per mano loro lo riconoscono io sono stato sempre presente loro in un certo senso mi hanno preso per mano e mi hanno aiutato a discernere che cosa vuol dire accompagnamento per loro e quindi come fare l'assistente spirituale ed è un'esperienza bellissima con loro e loro veramente stanno facendo un bel cammino alcuni di loro poi si sono si sono sposati o poi hanno preso altre strade perché Pavia essendo una città universitaria i giovani li vedi li vedi per 3-5 anni qualcuno sceglie di rimanere perché magari trova lavoro lì forma una famiglia lì ma tanti ecco vanno altrove però è un'esperienza proprio bella di fraternità a proposito recuperiamo anche con loro come di fraternità anche con le coppie di fidanzati che poi ecco da un paio d'anni è nato anche un percorso oltre a quello citato giovani coppie di sposi di sposi novelli cioè quelli del percorso di fidanzati hanno desiderato continuare ed essendo sposi anche lì abbiamo inventato sempre con questa coppia Silvia e Luigi un altro percorso per loro e quindi anche lì sono tutte esperienze di fraternità che viviamo senti frerico purtroppo tanti dati tante statistiche ci dicono che i giovani insomma non sono molto attratti dal fenomeno religioso comunque anche da esperienze di questo tipo che tu ci stavi raccontando la tua esperienza invece da questo punto di vista concorda con questo allontanamento oppure tu lo noti una sete una ricerca allora l'allontanamento c'è lo sappiamo cioè se parliamo dei percorsi cristiani dopo l'iniziazione cristiana la maggior parte dei giovani abbandona ma in un certo senso ci sta anche perché lì bisogna fare un passaggio io ultimamente lo sto mettendo sempre più a fuoco il passaggio da fare è dalla religione alla fede da una fede indossata quella dell'iniziazione cristiana delle pregherine l'ave maria l'angelo di dio a una fede scelta vissuta e questo credo che sia un passaggio necessario cioè i giovani poi hanno bisogno di trovare degli spazi dove ritrovarsi per vivere un'autentica esperienza di fede ma questo vale per tutti non vale solo per i giovani anche una persona di 60-70 anni io lo sto dicendo in queste sere cioè può vivere un'esperienza religiosa cioè vado lì seguo delle regole so che devo partecipare a certi momenti di culto ma realmente non vivo un'esperienza di fede e quindi io vedo che questi giovani nel loro piccolo ci provano la maggior parte invece rimangono con quei pregiudizi legati a quel tipo di informazione passatemi il termine che hanno ricevuto da piccoli e quindi la vedono un po' più come una religione imposta più che una fede scelta Gesù non impone niente a nessuno Gesù nel Vangelo non usa il verbo dovere se non per sé devo andare a Gerusalemme per vivere la Pasqua agli altri Gesù dice sempre se vuoi quindi la proposta da fare è quella e poi dico noi diamo la nostra disponibilità poi il buon Dio sarà lui a mettere nel cuore questo desiderio però se noi viviamo un'esperienza autentica di fede io credo che c'è una possibilità che chi ci incontra magari possa essere un po' contagiato la frase che va per la maggiore il cristianesimo non cresce per proseditismo ma per attrazione io me lo ripeto tutti i giorni proprio così e poi la conversione non è degli altri io continuo a dire appena arrivato la prima parola che ho detto l'unione di sera è io sono qui lo vivo come una grazia per convertirmi io se gli altri si convertono sono molto contento però io ho un margine di manovra sulla mia conversione sul mio cammino personale sugli altri se me lo permettono posso stare accanto e accompagnarli per un tratto del loro cammino Frerico battuta finale veniamo a Pavia che cosa possiamo ammirare cambiamo proprio argomento a Pavia ovviamente potete ammirare la bellissima chiesa di Canepanova una chiesa unica tutta il femminile lo dicono i quadri di otto donne della Bibbia oltre che otto Sibille che sono affrescate e poi questa Madonna di Canepanova che è una Madonna delle grazie un po' come quella che c'è qui lì proprio c'è il bambino che proprio allatta al seno di Maria in modo ben evidente proprio come qualsiasi bambino quindi c'è questo e poi vabbè Pavia lo dobbiamo dire subito è la città che conserva le spoglie mortali di Sant'Agostino in una splendida arca del 1300 e Sant'Agostino si trova a Pavia da 1300 anni giusto un paio di settimane fa hanno concluso il centenario della traslazione ecco da Cagliari a Pavia del corpo di Padre Pio poi come tutti sanno c'è la certosa di Pavia ma poi c'è la chiesa di San Michele che è la chiesa dei re nella metà del primo millennio i re venivano incoronati nella chiesa di San Michele e poi tante altre chiese che si possono ammirare oltre il ponte il castello insomma di cose da vedere ce n'è oltre che il Ticino anche disegna bene la città una città a misura d'uomo piena di giovani perché ci sono 25.000 universitari quindi direi notevole visto gli abitanti che sono tre volte tanto di abitanti bene allora grazie Federico abbiamo visto l'ultima immagine credo che sia proprio la chiesa il convento di Canepanova vediamo se la regia riesce a recuperare sei tu di spalle durante immagino una predicazione quindi questa è la chiesa di Canepanova benissimo allora grazie per essere stato con noi ti seguiremo anche oggi e domani la Santa Messa delle 18 la Messa Vespertina grazie davvero di cuore per la tua testimonianza andiamo in pubblicità sì andiamo in pubblicità e tra poco avremo un altro ospite e parleremo di un altro argomento importante la giornata nazionale Unitalsi restate con noi